Ciao a tutti e bentornati sul mio canale ed in un nuovo video! Oggi realizzeremo insieme il barattolo del buon auspicio. È facilissimo ed è praticamente sulla scia del tipico barattolo della calma, ma questo è un portafortuna per il nuovo anno ed andiamo a vedere subito perché. Ovviamente ci serviranno un barattolo di vetro con il suo tappo, dell'acqua ed un cucchiaino. Poi ho scelto questi glitter verdi e gialli perché il colore dell'anno 2017 è il greenery che è un verde molto fresco con una punta di giallo che richiama la natura e la vitalità. Ed infine ho pensato anche a dei glitter argentati e a delle stelline decorative, elementi che hanno anche l'oro e l'oro perché. Per iniziare versiamo un po' di acqua nel barattolo ed aggiungiamo i brillantini verdi ed un po' di gialli. Mescoliamo per vedere se l'effetto ci piace ed aggiungiamo anche dei glitter argentati e delle stelline. Questo perché i brillantini argentati secondo me rendono sempre tutto più magico e le stelline sono invece per eccellenza il nostro tramite a cui affidiamo i nostri sogni ed i nostri desideri. Mescoliamo bene tutto, riempiamo il barattolo di acqua fino all'orlo e chiudiamo bene il tappo che volendo possiamo anche colorare o decorare. Ed ora non ci resta altro che capovolgere il barattolo e lasciarci trasportare da questa atmosfera brillante, grintosa ma anche molto sognatrice e positiva. Ma soprattutto ricordiamoci di esprimere un desiderio quando una stellina passerà e brillerà proprio davanti a noi. Spero tanto di avervi regalato un po' di magia con questa mia idea creativa e che vi divertiate a creare il vostro barattolo di buon auspicio. Come sempre aspetto di leggere tutti i vostri commentini e se non siete ancora iscritti al mio canale cliccando sul luoghetto qui in basso a destra potrete farlo e rimarremo sempre in contatto. Vi mando un bacione e tanta felicità, ci rivediamo prestissimo, ciao! Ciao!